Oh, why do I keep on? Ragnar Kjartansson è uno dei protagonisti brillanti della scena del contemporaneo, capace di unire nel proprio lavoro ricerca e leggerezza, diversi media e una spiccata attitudine per l'empatia. Al Festival lo Schermo dell'Arte di Fiorenze è stato presentato, in anteprima italiana, il documentario che Roxanne Bageshirin Lekersen ha dedicato all'artista islandese intitolato I'm not an authentic human being. Prodotto dal Museo Luisiana in Danimarca, il film dà voce a Chiartansson che, dal suo studio di Reykjavik, racconta alcune delle sue opere più note, fino ad arrivare a uno dei capolavori, The Visitors, installazione su nove schermi che sta esposta in una mostra memorabile in Pirelli in Garbicocca a Milano nel 2013. Ragnar racconta, sorride, non si prende mai troppo sul serio, ma i suoi lavori e le sue installazioni lasciano spesso il segno e ci dicono di un'arte contemporanea che guarda più avanti, senza mai perdere di vista, la nostra umanità.